Buonasera, un po' di dati Covid. Oggi c'è stato un aumento in Versilia di 71 positivi, 37 di questi sono di Viereggio e il dato complessivo degli attualmente positivi in Versilia è 872 e a Viereggio 447. Tenete conto che in ospedale ci sono 53 persone nei posti Covid ordinari, 9 in riabilitazione e 7 in terapia intensiva, quindi le persone sono 69 ad oggi che sono in ospedale Versilia per Covid. Nel periodo più complicato dell'anno passato, esattamente dal 20 di ottobre al 30 di novembre, quindi quei 40 giorni, ci sono stati 3.115 casi di positivi. Oggi siamo a 872. Siamo lontani da quel numero impressionante, ma come dire, io ho visto che negli ultimi giorni c'è stato un'escalation che credo vada assolutamente tenuta sotto controllo. Tenete conto che i positivi di febbraio sono stati 871 in Versilia e per farvi un paragone con gennaio, praticamente gennaio era la metà, 432, quindi vedete che a febbraio la curva sta mano a mano risalendo e ci auguriamo naturalmente che non raggiunga vette come vi dicevo prima raggiunte nel mese di novembre scorso. È una situazione estremamente delicata che va monitorata quotidianamente così come stiamo facendo. Tenete conto che il grosso delle persone positive fortunatamente riesce a curarsi a casa perché non ha sintomi particolarmente gravi e tenete altresì conto che le persone che purtroppo ci hanno lasciato sono arrivate a 233 dall'inizio della pandemia. A Via Leggio sono esattamente 92. Ecco, questi sono dati che dovevo necessariamente passarvi. Abbiamo un'incidenza degli attuali positivi su tutta la popolazione della Versilia dello 0,45% e quindi su 162.000 abitanti, ripeto, 872 persone sono attualmente positive. Io invito tutti di nuovo a rispettare le prescrizioni che ci vengono date e cioè utilizzare le mascherine, non fare assembramenti. Avrete visto che in quest'ultimo fine settimana, assieme alle forze dell'ordine, siamo intervenuti anche duramente nei confronti di alcuni raggruppamenti di persone che veramente non avevano motivo di stare aggregati in quel modo, continueremo e quindi a coloro che si lamentano che sono state combinate delle sanzioni, io rispondo voi non dovete assolutamente non rispettare le regole che ci sono imposte per evitare tutti quanti di contagiarci e di ammalarci. Quindi continueremo, però, come dire, io cerco sempre di sollecitare l'attenzione e vi prego di tenerla assolutamente alta, l'attenzione, perché le possibili varianti che ovviamente oggi non conosciamo, perché non ci sono ancora stati forniti dati ufficiali, ma potrebbero esserci varianti come ci sono in tutta Italia, come ci sono in tutta la Toscana e quelle sono, come dire, a diffusione assolutamente più alta rispetto al Covid originario. Per cui massima attenzione, continuiamo a tenere alta la guardia, vi aggiornerò perché credo che sia necessario ora, insomma, se non tutti i giorni, ma diciamo ogni due o tre giorni per tenervi informati. Ripeto, il dato ad oggi, 8,72 in Versilia, aree attualmente positivi, 447 a Viareggio, in ospedale 69 persone. Buona serata.